L'ex re molisano della moda, Tolino Perna, condannato per bancarotta fraudolenta a sette anni di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il crack ITR. E la sentenza emessa dal collegio giudicante di Isernia, preseduto dal giudice Nardelli, con Zarone e Cappelli a latere, con Perna condannati anche Maurizio Negro a sei anni, Paolo Giorgio Bassi, Andrea Manghi e Franco Orlandi, tutti a tre anni e quattro mesi. Pene accessorie per Perna e Negro interdizione perpetua dai pubblici uffici, altra pena accessoria per Perna, l'interdizione dagli uffici delle imprese per sette anni. Assolto invece con formula piena il noto commercialista isernino Simone Feig. L'inchiesta alta moda inizia nel 2012, quando Perna viene arrestato dalla Guardia di Finanza, finendo in carcere per 18 giorni. Una notizia che fece il giro del mondo, visto ciò che aveva rappresentato l'ITR nel campo della moda e dell'Oxuri fino a quel momento. Le indagini in realtà erano partite già nel 2009, dopo l'insediamento dei commissari governativi Chimenti, Ciccoli e Spada. E' l'inizio dell'amministrazione straordinaria. Per la procura Perna aveva messo in campo, in maniera reiterata, operazioni commerciali antieconomiche, ovvero per nulla a vantaggio della società IT Holding, ma solo per scopi personali. Il tutto attraverso il sistema delle cosiddette scatole cinesi, complessi apparati societari finalizzati a distrarre e occultare beni e risorse. Sistema che aveva condotto gli inquirenti a monitorare società con sedi alle isole Cayman, alle isole Vergini e in Lussemburgo. Sin dallo scoppio del caso, l'ex re della moda aveva sempre negato le accusi a suo carico, dichiarando ai giudici di aver agito nell'interesse esclusivo dell'azienda, forte anche delle motivazioni adotte dai giudici del Tribunale e del Riesame di Campobasso, che lo aveva rimesso in libertà e confermate dalla Cassazione al momento della sua scarcerazione. Oggi, otto anni dopo, arriva la sentenza di primo grado. Scontato il ricorso in appello, come annunciato dall'avvocato difensore di Perna, Marco Franco, che evidenzia anche la demolizione di gran parte dell'impianto accusatorio dell'inchiesta. Ogni qualvolta il castello accusatorio iniziale a carico del Cavaliere Perna si confronta con giudici di merito, perde pezzi sostanzialmente. Oggi sono caduti altri otto capi di imputazione sui tredici che erano residuati dopo l'udienza preliminare. Già uno era caduto in indagini preliminari, due all'udienza preliminare, tra cui le contestazioni principali, e adesso ne cadono altri otto. Su sedici ne sono rimaste solo cinque, che siamo sicuri verranno poi demolite nei gradi successivi di impugnazione. Quindi noi l'impugnazione la faremo. Siamo curiosi dal punto di vista giuridico di leggere le motivazioni che hanno portato questi giudici a condannare il Cavaliere Perna rispetto a questi cinque capi di imputazione, ma siamo altrettanto sereni che otterremo giustizia piena nei successivi gradi di giudizio. Perna e gli altri ex manager della società del gruppo sono stati condannati anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in particolare dei commissari straordinari Emanuele Rimini, Enrico Ostasi e Mauro Messina. La Procura della Repubblica era rappresentata dal sostituto procuratore Maria Carmela Andricciola.